che è andata questo è verde scuro però sta diventando buio Lorenzini, guarda Lorenzini e lì devi andare a drizzarti che dopo Giulia a destra va a fare i pali ma noi non andiamo a fare i pali ci va a spanko a fare i pali guarda Stefano come è andato il ruolo grazie grazie scusa stasera ci vediamo a me la cena figa com'è scivoloso e allora la puttana oooole volevi andare a destra devi andare a destra ma che mano ha sposto eeeh 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 la porca eeeh a zero vai cavallo vai cavallo veic eeeh 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 Grazie a tutti. 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 E' la nebbia, la nebbia. E' la nebbia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.